Ciao, oggi andiamo a fare il basso San Lorenzo e il basso San Bolo. Sono in cima alla salita di San Lorenzo e ho il fiatolo perché l'ho fatta veramente forte. Ho provato il mio miglior tempo, ma c'è ancora da migliorare perché sì va bene, ma i miei standard sono più alti. Adesso non so che tempo io abbia fatto, però adesso sono contento. Adesso si prosegue giù per l'Italia e facciamo i laghi di ravine, poi su al basso San Bolo, che è uno spettacolo, poi giù. Grazie a tutti. Bene, è iniziata la seconda salita, passo San Bolo, voi vi aspettate le gallerie, le foto belle, un attimo, arriveranno, sì, arriveranno, tra pochi secondi. Grazie a tutti. 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 a 10 chilometri, ho 100 chilometri fatti, è un livello segno, iscrivetevi al canale, se c'è il like, attivate anche la campanella, così non vi perdete niente, commentate alla prossima, ciao!